Tra i partenti laterali, in solo Mallorca, non della tendenza di potenza tradizionale, rimane davanti, anzi va davanti tutto versivo in Mallorca in una seconda tradizione. Abbiamo notato ieri la differenza non soltanto di struttura fisica ma anche di patinato tra i due. Prova dai per Massi all'interno, la seconda tradizione chiude la porta a Mallorca. Suona il mandato, Massi li riprova il campione del mondo junior ora due stagioni fa. Massi li riprova all'esterno, Massi li riprova l'interno, prova all'esterno, adesso serve all'ultimo attacco. Massi li riprova il campione del mondo junior, ora due stagioni fa, Massi li riprova all'esterno. Aspettiamo la conferma della seconda posizione. E quindi si sono qualificati Duccio Marsini e Andrea Coimanschi. Sì, brava all'esterno. Piozzini, 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 Piozzini! Piozzini, 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 P Grazie.